Siamo con la Presidente Ruscini del Grifo Calcio Femminile. Presidente, una prestazione delle sue ragazze al di sopra delle aspettative, nonostante un avversario temutissimo come il Torres? Sì, assolutamente, sapevamo rigiocare con una squadra stellare. Le ragazze hanno reagito in maniera ottima, hanno capito che la realtà era quella di poter lottare fino alla fine. Abbiamo preso tre gol su calci pazziati, quindi devo dire che alla fine in azione non abbiamo subito chissà che cosa. All'inizio della stagione ha parlato dell'obiettivo salvezza, è sempre dello stesso avviso? Io credo di sì, nel senso che se le ragazze come stanno facendo crescono ogni partita di più, credo che ci sia la possibilità di arrivare quart'ultimo per lottarci i play-out. Questa sarebbe la nostra massima aspirazione e credo che questo è quello che possiamo raggiungere. Poi naturalmente la Serie A è sempre un turno all'otto e il primo anno è sempre molto difficoltosa, però credo che dall'inizio del campionato ad oggi siamo molto cresciute e siamo cresciute anche molto sia calcisticamente ma anche di testa. Stiamo affrontando ogni gara con una sempre maggior convinzione, una sempre maggior grinta, quindi questo ci fa ben sperare. Quindi nonostante le sconfitte subite, comunque nelle ragazze c'è sempre molto entusiasmo, molta carica. Il prossimo appuntamento è Riviera di Romagna? Beh sì, il prossimo appuntamento è Riviera e sarà anche quello molto difficile perché comunque Riviera è sotto le prime quattro, quindi sarà una partita molto complicata. Però credo che con questa grinta ci andiamo a lottare ogni gara consapevoli del fatto che ogni risultato può essere dovuto a tante situazioni. La realtà dei fatti è che noi stiamo provando a venire fuori da questo quarto ultimo posto e stiamo tentando di rimanere sempre ancorate a questa posizione per riuscire a restare in Serie A. Una bella soddisfazione, oggi non è sembrato che ci fosse tutto questo scarto fra le due squadre, ricordiamo i 12 punti della nostra e contro i 53 del Torre. Sì, sì, assolutamente sì, infatti questo è quello che ci fa ben sperare perché le ragazze hanno capito che lottare significa questo e ci andiamo a lottare a viso aperto con ogni squadra. Quindi questa è una grande crescita della squadra che spero ci faccia ben arrivare a sviluppi ottimi per noi. Siamo con Manuela Tesse, mister del Torres. Una bella soddisfazione da parte delle sue ragazze, un'escalation comunque di vittorie e di successi, quindi è un po' una ciliegina sulla torta quella di oggi. Siamo venute qui a Perugia sapendo dovevamo fare il risultato. Comunque il campionato, come ho detto quasi dall'inizio, è lungo, quindi noi dobbiamo continuare la nostra marcia e cercare di vincere per arrivare fino alla fine con i nostri punti di vantaggio. Abbiamo visto un bel gioco, sia in fase di costruzione, in fase di finalizzazione, una squadra veramente presente, forte sul campo. I meriti a chi vanno in particolare? Beh, i meriti sono sempre delle ragazze perché vanno in campo, sono loro che si sacrificano tutta la settimana e diciamo che il mister è quello che dà un'organizzazione di gioco, però logicamente non sta in campo, non spende le forze, chi le spende sono le ragazze. Quale pensa sia, se pensa, che ci sia la marcia in più della vostra squadra? Beh, io sono arrivata quest'anno e ho ereditato un gruppo vincente. Loro è da tre anni consecutivi che hanno vinto lo Scudetto, quindi penso che l'arma in più sia quella di affrontare ogni partita con umiltà, sapendo che devono sempre dimostrare di essere forti, ma lo dimostrano sul campo. Come ha visto la squadra del Grifo invece in campo? Eh, oggi diciamo che i primi venti minuti abbiamo fatto fatica perché loro accorciavano bene, erano belle corte, pressavano su tutti i palloni e devo dire che erano ben messe in campo. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti